salve a tutti carissimi bentornati in questo nostro spazio di riflessione condivisione di ricerca ricerca di significato un po di pace di verità nelle cose la fuori del mondo impazzito la fuori anche nel nostro mondo interiore che magari un po sta seguendo le cose la forma allora vorrei condividere con voi una cosa che mi è accaduta una cosa che ho trovato e che mi ha fatto molto molto riflettere ero in questura per questioni di pratiche burocratiche non mi vogliono ancora arrestare almeno almeno lo spero e ho trovato questo volantino vedete c'è il simbolo della polizia di stato e c'è scritto in collaborazione con la polizia di stato lasciate perdere la sponsorizzazione stop al bullismo stop al bullismo numeri utili dietro polizia di stato carabinieri emergenza sanitaria numero verde antiviolenza emergenza infanzia eccetera è fatto bene sapete che ho lavorato un po di anni con i ragazzini anche ragazzini vittime di violenza è fatto bene parte rossa parte verde riconosci il problema e la parte verde liberati dalle catene uno dei primi gradini difficili da da affrontare del primi ostacoli per la persona che subisce violenza bullismo abusi è riconoscere di essere una vittima accettarlo accettare fare i conti col fatto che sia impotenti e avere il coraggio di dire a qualcuno guardate che sono una vittima ho bisogno di aiuto e anche un altro aspetto difficile è riconoscere proprio la violenza quando si è cresciuti magari in un qualcosa di violento si fa più fatica a riconoscere certi comportamenti sembrano normali abituali allora prima parte corretta riconosci il problema vi leggo elencano alcuni alcuni possibili comportamenti disfunzionali che devono essere riconosciuti disfunzionali che vengono subiti agiti da parte di qualcuno bullismo verbale ora queste cose le ho lette ma qualcosa detto si è mosso ho pensato a noi non ai ragazzini anche i ragazzini ma li conosco già questi ascoltatemi un secondo bullismo verbale si verifica quando qualcuno ti insulta per le tue caratteristiche fisiche personali e culturali si manifesta tutte le volte che qualcuno ti attribuisce soprannomi svilenti facendoti sentire inadeguato fisico bullismo fisico si verifica quando qualcuno ti colpisce ti picchia ti ferisce provocandoti danni o dolore fisico non sempre però è necessario arrivare alle mani anche quando qualcuno ti minaccia ti intimidisce o ti deruba dei tuoi effetti personali sta agendo da bullo sentite qualcosa questi ultimi due anni la televisione cosa ha fatto alle persone certi soggetti dopo andremo un attimo in dettaglio bullismo sociale che roba è cos'è sta roba si manifesta tutte le volte che qualcuno ti esclude dalla vita sociale del gruppo oppure condivide informazioni o immagini che ti mettono in imbarazzo e ledano la tua dignità informazioni personali private che ledano la mia dignità magari informazioni sanitarie mediche cyberbullismo è il bullismo effettuato sul web e comporta che tutti gli atti raccontati fino a questo momento bullismo sociale fisico verbale vengano resi pubblici in rete danneggiando gravemente l'autostima di chi li subisce forse se ti riconosci in una di queste definizioni o forse finalmente forse ti riconosci in una di queste definizioni o forse finalmente potrai comprendere cosa provocano le tue azioni in ogni caso non è troppo tardi scegliamo insieme di fermare il bullismo e poi c'è la parte liberarsi dalle catene prima vorrei analizzare questa parte però in rosso riconosci il problema bullismo verbale è un anno che attraverso le tv diversi soggetti a mio avviso utilizzano una violenza generale verso i cittadini il runner la persona che ha abbassato la mascherina che ha fatto un pensierino diverso un medico che aveva un'idea diversa la persona che ha detto forse io dubito non so se mi inoculo adesso coloro che ne hanno fatte due sono dei vili se non fanno la terza sorci criceti mail ma cosa cosa ha detto quella dovete diventare poltiglia verde c'è il bullismo verbale in tv la ve trasversale perché adesso inoculati non inoculati non possiamo farci inculare in questo modo con questa divisione è un bullismo verbale continuo verso tutti verso l'intelligenza ma quello fisico è bello hai fatto la vaccinazione sei inoculato ma il tampone te lo faccio lo stesso un bel molecolare quando c'era un tizio piccoletto che diceva è una sofferenza e la sofferenza li porterà a ragionare i maledetti quelli di prima quelli non inoculati però adesso la fanno a tutti poi è arrivato quello che col bullismo verbale se l'aveva con i sorci 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 e ho visto tamponi spezzarsi gli ho visti spezzarsi adesso vaccinati non vaccinati po di tamponi ce li facciamo tutti e qua non sempre però è necessario arrivare alle mani alla violenza quando ne abbiamo avuta ormai c'è gente che ha delle narici grandi ma anche quando qualcuno ti minaccia vi verremo a prendere a casa vi staneremo dovete farne tre adesso quattro vili volete mollare ti minaccia ti intimidisce o ti deruba dei tuoi effetti personali vi multeremo vi daremo sanzioni pesantissime gravissime così scrivono i giornali adesso e c'è il passaggio prima quando dicono qualcuno insulta colpisce le tue idee tuoi aspetti culturali personali è un violento un bullo sotto bullismo sociale si manifesta tutte le volte che qualcuno ti esclude dalla vita sociale del gruppo oppure condivide informazioni magari di salute o immagini che ti mettono in imbarazzo la digos vi ha ripresi tutti finirete in tv vi manderanno sul giornale abbiamo le vostre foto abbiamo sentito di tutto perché si andava a manifestare in piazza perché si stava tante persone perdevano il lavoro vi ricordate inizio addirittura a milano i ristoratori mandati tutti a casa segnalati fermati multati quindi bullismo sociale mi piace si verifica quando qualcuno ti esclude dalla vita sociale c'è qualcuno escluso di recente perché quel sorcio di novax lo diventa ognuno di noi appena scatta il la fine del tempo di validità dell'inoculazione o della della malattia che hai fatto e quindi sei un escluso torni ad essere un escluso cyberbullismo è il bullismo effettuato sul web e comporta tutta una serie degli aspetti precedenti beh la violenza di pagine di medici chiuse persone che semplicemente perché hanno espresso appunto loro pensieri caratteristiche personali culturali solo si sono viste chiudere un canale magari canali che erano anche loro spazi di lavoro di comunicazione con una storia di anni bene adesso passiamo a liberati dalle catene perché credo che in questa descrizione ormai in questa situazione si sentano sempre più persone cioè praticamente io credo che magari con un'intensità diversa ma siamo intorno al 100 per cento degli italiani si salvano i parlamentari ovviamente ma quello è un altro discorso ecco allora cosa dobbiamo fare perché la polizia di stato ce lo dice liberati dalle catene se sei vittima in modo intenzionale e costante di intimidazioni beh in modo intenzionale mi parli sì è costante due anni due anni che va adesso andiamo verso il terzo di intimidazioni sopraffazioni pressioni fisico psicologiche se non fate quel che diciamo vi togliamo il lavoro vi multiamo vi togliamo il denaro sembra cioè abbiamo a che fare con dei bulletti piuttosto ecco se avete a che fare con tutto ciò pressioni fisico psicologiche cercate di raccontare tutto ai vostri genitori agli insegnanti o una persona di fiducia non chiuderti in te stesso per vergogno o paura questa situazione non fa che peggiorare i torti subiti non chiudetevi anche un po' tutte quelle reazioni avverse eccetera che perché t'hanno costretto a fare qualcosina poi stai male se stai male vai dal medico molti ti dicono ma hai ansia agli attacchi di panico cosa dici ma quali reazioni avverse sarà sorto un problema per la tua storia personale biologica psicologica ecco qua ci dice non chiudetevi in voi stessi per vergogno o paura questa situazione non fa che peggiorare i torti subiti se ti se si tratta di cyberbullismo utilizza i blocchi del tuo account social o cambia l'indirizzo email il cyberbullismo è il mainstream bullismo quindi ci dicono ci stanno dicendo utilizza i blocchi spegni la tv butta via il televisore spegni tutto ciò che arriva come informazione da parte come azione da parte dei bulli cambia l'indirizzo email ecco un po durce potrebbe essere anche se il bullismo continua così di cambiare proprio indirizzo bisogna cambiare proprio o il numero di cellulare in modo di non essere più reperibile non rispondere alle minacce ricevute salva tutti i messaggi e annota i tempi delle telefonate o i luoghi veri o virtuali delle persecuzioni stiamo annotando tutto lo state facendo spero tutto tutto ciò che vi hanno detto che c'è stato detto annotate tutto recati al più presto accompagnato dai tuoi genitori in un ufficio di polizia per sporgere denunce quindi la polizia di stato ci ha spiegato come fare per rispondere a questa situazione di bullismo c'è solo un piccolo problema che a un certo punto mi è sorto nella mente ma se il bullismo lo compie lo stato grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.